Salve a tutti, salve a tutte. Come state? Benvenuti o bentornati sul canale. Oggi un video un po' particolare perché torno con uno dei video della serie Trash e che solitamente sono le cose che vedo in vendita su Aliexpress, però questa è una versione un po' più natalizia, diciamo. Un po' diversa perché ho qui un catalogo di giocattoli per bambini e voi direte, Gelsu, ma che fai con un catalogo di giocattoli? Allora, praticamente, per chi non lo sa, io lavoro in un negozio e spesso i clienti dimenticano delle cose e l'altro giorno un bambino ha dimenticato questa rivista di giocattoli che è del corte inglese. Il corte inglese, per chi non lo sapesse, in Spagna è tipo un impero, è una specie di rinascente, diciamo, però con più cose, tipo hanno anche elettrodomestici, giocattoli, hanno un po' di tutto. C'è pure l'Agenzia Viaggi, insomma, una rinascente più completa, diciamo. Comunque, e ovviamente c'è anche il reparto giocattoli per bambini. Allora, l'ho iniziato a sfogliare perché ho detto, ma sono curioso di vedere quanto è cambiato o se ci sono molte differenze tra i giocattoli della mia generazione, che io sono dell'85, e i giocattoli della generazione di oggi. E perché anche io mi ricordo che quando ero piccolo c'erano queste riviste con tutti i giocattoli, io li sfogliavo, li guardavo. Allora ho detto, ma vediamo che differenza c'è con i giocattoli di una volta e i giocattoli di oggi. E devo dire che ho trovato alcune perle un po' tipo, che sono rimasto, tipo, come scusa. E quindi ho deciso di condividerle con voi. Vi farò anche la traduzione perché soprattutto una delle cose che mi faceva più ridere era anche, a parte il giocattolo in sé, la descrizione che è in spagnolo, ovviamente. Spero che si riescano a vedere bene nella fotocamera, ho messo dei segnalibri di Gudetama per ritrovarli rapidamente. E niente, così li commentiamo insieme, vediamo con cosa giocano i bambini di oggi. Allora, la prima cosa un po' what, che l'ho detto, ma... è questa, questa per giocattoli, per bambini proprio piccoli, piccoli, questa aspira, cioè un aspirapolvere, un aspirapolvere per bambini, ma che c'è nel senso che funziona veramente, addirittura c'è il set detto per pulire che ci può anche stare perché magari, boh, edochi il bambino a pulire, a... cioè nel senso a essere ordinato, a pulire quello che sporca, magari giocando, giocando, impara, però già addirittura l'aspirapolvere tipo reale che funziona veramente, ma a questo punto dagliene una vera perché comprarne una giocattolo che aspira veramente, cioè dagli un aspirapolvere vera, non lo so, l'ho trovato un po' tipo, what? Non lo so, forse sono io che sono un po'... un po' scettico, però... Poi, io mi ricordo che quando eravamo piccoli ci divertivamo a giocare al negozio e facevamo una cassa e facevamo finta tipo di, insomma, che uno era il cliente che pagava in cassa e qui addirittura si sono evoluti e hanno fatto il POS per bambi, per pagare con... col banco, con la carta. Che bambini evoluti, boh, mi vanno a ridere tipo che vuoi per Natale fare il POS giocattolo. Io neanche sapevo che era un POS quando avevo tre anni, perché questo è un giocattolo per bambini di tre anni. Poi... passiamo a... a questo! Aspettate, prima la seconda cosa. Ah, questo lo trovo, un giocattolo orribile. Allora... questo è un giocattolo, un giocattolo, non capisco neanche dove sia il gioco. Avete presente quella cosa che per me è schifosa che si vede tipo che vendono i pesci nei sacchettini di plastica trasparenti, chiusi là dentro. Eh, i bambini corrono con questo pesciolino dentro. Ecco, qui vendono una versione giocattolo, tipo il sacchetto di plastica col pesce finito dentro. Cioè... c'è scritto, ti causerà un effetto wow. Potrei portare il pesce intrappolato in un sacchetto come se stessi salendo da un reale negozio di animali. Ma perché? Ma che giocattolo è? o faccia finta che ci ho pesciolino trappolato in un sacchetto. Sapete che i temi animali sono un po' particolari. Poi questa mi faceva troppo ridere. È una bambola, questa qui che vedete, è una bambola di un metro e cinque. E c'è scritto, le crescono i capelli. Ma in che senso? Come le crescono i capelli? Ma in che senso? Ho capito. Cioè, può mi fare come le crescono i capelli? Tipo, ad un tratto giù, le cresucce, mi spaventai troppo. Ho comunque una bambola a cui crescono i capelli? Non so come. Costo sessanta euro. Sempre in tema bambole. Questa è... una bambola che si chiama Nancy un giorno da youtuber. Vedete qui c'è il trepiedico col sostegno per mettere il cellulare qui. E c'è scritto un giorno. Si converte in un'autentica youtuber super fashion con la quale potrai registrare ed editare i video più divertenti come una youtuber reale. Barbie youtuber. Barbie non è Barbie, però insomma bambola youtuber. cosa ne pensate? Allora... Qua arriviamo alla parte più trash, che però è anche la mia preferita perché è un paio di giochi. Io quando ero piccolo e la friuse. Perché è molto trash da bambino. Questa... questa faccia qui si chiama Gaston Cabesson, che vuol dire Gastone, il testone. Vedete? E qui tipo dalle orecchie, dalla bocca e dal naso escono rischie di pesce, ragni, occhi, topi e c'è scritto quante cose schifose ci sono dentro la testa di Gastone. Stai attento con quello che ti vuoi. Ma che gioco è? È fantastico, io l'avrei voluto. È il tipico gioco più da bambino avrei voluto. Poi, sempre rimanendo in tema cose schifose, abbiamo il gioco che si chiama Beppe Mucco. Cioè, Beppe Mucco, dette. Ben 30 euro costa. E c'è scritto Beppe Mucco a Mucco. Quanto Mucco riuscirai a tirare fuori? Tirai fuori il muco dalle narici senza farlo stanno a tiri? Beppe Mucco, fantastico. A mio figlio lo comprerò. Poi, qui c'è, vediamo, qui c'è, ah sì. Pedrete è il monoguerrete. Cioè, Pedro, la scimmia tipo sporgacciona. E dice Vedrete, vedrete, è molto carino. Il sedere si gonfia e tira uno scorreggio. Se lo provochi e lo fai scorreggiare perdi. Ok. Vedete, il suo sedere è gonfio. Cioè, insomma... Ah, poi anche rimane di un tema, questo gioco è tipo il super... Super what? Allora... Si chiama cacacciaff. Sono fissati con queste cose. Cacacciaff, vedete? E c'è scritto... Stai attento, non pestare la cacca. Riuscirai a evitarla con gli occhi pensati? Ma che gioco è? Ma che vuol dire? Ma perché? Ma poi tipo immaginate un bambino. Dai quattro anni in su. Un bambino di quattro anni. Che scrive alla lettera di Pappu Natale. Voglio cacacciaff. Per non pestare la cacca con gli occhi pendati. Ah, sempre rimane di un tema che credo che i bambini di oggi siano fissati con queste cose. Questo si chiama... Bagnoboom. E come vedete da questo, che non posso dire che cos'è perché sennò YouTube mi censura. È un gioco tipo di... Un gioco di... Come si dice? Tipo di sturare il gabinetto praticamente. E c'è scritto un gioco di cacca e reazioni rapide. Ma perché? Ma che gioco è? Costa pure 20 euro. Poi tipo la cacca bellissima. Tipo super sorridente perché l'hanno tirata fuori dal gabinetto. Vabbè. Io pensavo che il trash fosse solo su Aliexpress ma vedo che... E poi l'ultima cosa che ho trovato... E che mi hanno lasciato un po' pure... E questo... Il giocattolo del finto smartphone con delle app addirittura. Oh... Ci sono più di 25 app incluse. E... Connessione wifi. Bla bla bla. Tipo... Per fare finta che hai l'iPhone. Gioco dai quattro anni in su. Io non so voi ma... Io ho un mio figlio di quattro anni. Ah e poi c'è scritto pure... Che c'è un obiettivo per farsi selfie a quattro anni. Devo in testo la rivista. Non mi tiro questo smartphone finto a quattro anni per farti selfie con le app. C'è anche la tablet. Comunque... Allora, queste erano alcune cose... Un po' un voto che ho trovato su questo catalogo di giocattoli. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Qual è il vostro giocattolo preferito? Voi le volete per Natale? Ditemelo. Io voglio... Gaston Cabezon. Con la testa che escono le cose schifose. Lo chiederò a Pappo Natale. Questo è tutto. Spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao e buonanotte a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti